E ragazzi, stufi della barca spiaggiata? Bene, tirate fuori il coltello e accoltellatela. Se vi piegate e l'accoltellate da sotto, i colpi saranno più efficaci e piano piano potrete rispingere la vostra barca in mare. Funziona anche con le imborcazioni d'attacco e con qualsiasi mezzo marino, soprattutto se colpite la gomma, soltanto che l'ho capito un po' troppo tardi. In ogni caso, siete subito poronti per ripartire e non dovrete mai più bestemmiare. Buon video, ciao ragazzi! Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4. Oggi parlerò di Naval Strike, la terza espansione scaricabile da pochi giorni dal Playstation Network e su Xbox One. Ho sentito però che questo DLC riscontra alcuni problemi su PC e che quindi gli utenti del computer dovranno aspettare ancora un po' prima di poter scaricare Naval Strike. In ogni caso, andiamo a parlare di Naval Strike. La grande domanda che mi porrò e vi porrò oggi è Ne vale la pena? E con ne vale la pena intendo vale 15€? Perché se non avete Premium dovrete pagare 15€ per questo DLC esattamente come tutti gli altri. Quindi, il domandone è Vale 15€ questo DLC? Sicuramente se avete Premium vale la pena scaricarlo perché è un'espansione, è gratis, quindi sarebbe stupido non scaricarla. Ma se non avete Premium, questo pacchetto, voi con 15€ potreste comprare questo pacchetto e scaricare 4 mappe, delle nuove armi e una nuova modalità di gioco che è stata introdotta che conoscevamo da Battlefield vecchissimo, 2142 se non sbaglio. Non vorrei dire una boiata, correggetemi nei commenti se ho sbagliato perché tutti questi numeri vaffa... Vabbè, in ogni caso, tornando al nostro discorso, ovviamente gli oggetti scaricabili sono sempre più o meno gli stessi. Le mappe, le armi, la modalità di gioco nuova. E quello che cercherò di farvi capire oggi è quanto valgano le cose che sono state introdotte in Naval Strike, a livello non quantitativo perché sembra uguale, ma qualitativo. Parliamo in questo caso di 4 mappe che hanno al centro, ovviamente, lo scontro nel mare. In mare aperto, delle isole, le mappe sono tutte strutturate bene o male su delle isolette. Magari ce n'è una centrale un po' più grande, circondata da tante isole piccole, ma in ogni caso la superficie è prevalentemente acqua. Quindi le barche avranno un ruolo centrale in questo DLC. Allora, io, onestamente, all'inizio, la prima volta che ho sentito Naval Strike, mi aspettavo che magari venissero introdotte delle nuove imbarcazioni. In realtà è stato così, ma in realtà non lo è stato. Cosa intendo? È stato introdotto una nuova imbarcazione. Peccato che sia un piccolissimo, non so come si chiama, mi sembra un overcraft, che è semplicemente un mezzo anfibio. Un jet ski anfibio può andare sia sul terreno, a patto che non ci siano impedimenti troppo esagerati, che sull'acqua. Quindi un mezzo per spostarsi velocemente è che può anche andare per terra. Però, onestamente, le isolette sono minuscole e in realtà non ci serve, perché una barca normalissima fa esattamente lo stesso lavoro che può fare quello. Soltanto che non può andare per terra, nel senso può spieggiarsi la barca. E quello, vabbè, può dare fastidio, è un piccolo contrattempo, però, onestamente, da un'isola all'altra si può anche andare a nuoto. Non è un problema, perché sono solitamente molto, molto vicine. Quindi, questo nuovo mezzo introdotto, secondo me, è un po' superfluo. Soltanto, secondo me, Dice l'ha quasi solo introdotto per mostrarci di aver introdotto qualcosa. Può risultare divertente, ma non risulta davvero utilissimo. È un mezzo di trasporto come una barca o un jetski normalissimo. E questo mi ha lasciato un po' perplesso, nel senso mi aspettavo che un nuovo mezzo avesse qualche utilità nuova. Mentre, come vi ho già detto, non ne ha. Passiamo, invece, alle armi che sono state introdotte. Innanzitutto, un'altra rivoltella a doppio scatto. Quindi, come la 44 Magnum e la Rex, ci sarà un ritardo sul colpo quando spareremo. Ed è per questo che non mi piace. Non mi piace usare dei revolver che sparano, sono double action e quindi sparano mezzo secondo dopo che io ho premuto il grilletto. Semplicemente perché in situazioni di pericolo immediato, che sono quelle in cui io solitamente uso le armi da fianco, cioè le pistole, non mi pare utile usare un'arma simile perché deve essere reattiva, deve essere veloce, perché sono in una situazione, fra virgolette, di panico. Dove devo reagire piuttosto in fretta. E aumentando il mio tempo di reazione a un mezzo secondo in più, non riesco più a essere estremamente preciso e quindi non riesco a mettere a segno i miei colpi. E nove volte su dieci, quando uso una 44 Magnum, una Rex, quella rivoltella nuova di cui mi sfugge persino il nome, muoio, perché non sono veloce abbastanza. Non sono Superman, non posso prevedere tutto quello che faranno i miei amici. A parte questo, le altre armi che ci vengono portate da questo DLC sono abbastanza buone, soprattutto la WS, che è un'arma del supporto, semplicemente perché ha delle statistiche molto molto vicine e quasi uguali a quelle di un fucile d'assalto, però ha un caricatore di 100 colpi e la velocità di ricarica è davvero davvero ottima. Quindi è come avere un fucile d'assalto con un caricatore tre volte ampio quanto quello di un, che ne so io, di un Ace 23. Quindi, un'arma davvero davvero ottima. Quindi, abbiamo parlato delle armi introdotte, abbiamo parlato dei mezzi introdotti, le mappe sono tutte similissime, non c'è una grandissima differenza fra le quattro mappe introdotte e davvero, a livello di mappe, sembra quasi di giocare su una Paracel Storm, nel senso, non c'è davvero una differenza fra una mappa e l'altra e fra queste quattro mappe che ci sono introdotte e la mappa Paracel Storm, c'è qualche differenza, non dico che sia stessa cosa giocare su Paracel Storm o giocare su queste mappe, ma il feeling sulla mappa è comunque sempre quello. Ora, la domanda che mi resta da fare è sono davvero riusciti a mettere lo scontro delle barche al centro? Perché Naval Strike, in teoria, la cosa principale di Naval Strike era mettere al centro dell'attenzione di tutti i giocatori questo scontro marino. No, questo DLC secondo me non ci riesce, perché tutte le navi e così semplicemente servono o da trasporto o al massimo si usa la barca d'attacco, ma onestamente quella si poteva usare esattamente come si può usare qua anche su Paracel Storm, sulla prima set di Emcom, su Resort di Ainan, su Conquista Grande, su quasi tutte le mappe, basta che ci sia dell'acqua, o persino su Assedio Shanghai, che è una mappa cittadina, abbiamo una barca d'attacco, che ovviamente su delle isole sia più utile. È ovvio, è naturale, perché c'è più acqua, quindi la barca non si deve fermare per forza a riva. Ma anche, ad esempio, su Diga di Lankang, se una barca riesce a controllare la parte marina, riesce a controllare tutta la mappa tramite i razzi TV, ad esempio. Può buttare giù carri anche in posizioni difficili. E tutto questo, insieme, porta al fatto che, alla fine, Naval Strike non sia niente di speciale, perché un DLC mirato a mettere al centro dell'attenzione dei giocatori l'utilità delle navi, delle barche, mettere quello al centro, che non ci riesce, secondo me non è un DLC che ha raggiunto il suo scopo. Una lode, però, a questo DLC va fatta. La nuova modalità introdotta, vi avevo già accennato all'inizio, è Attacco alla Porta Aerei, che è praticamente la coppia di Titan Mode, una modalità di Battlefield 2142, ricorreggetemi se ho risbagliato la data. In ogni caso, come funziona questa modalità? Praticamente si gioca a conquista sulla mappa, come se fosse conquista grande. Soltanto che, invece, delle bandiere si catturano dei lanciarazzi, che vanno a ferire, diciamo, gli scudi e le protezioni della Porta Aerei nemica, quindi dello schieramento nemico. Più bandiere ha una squadra e più velocemente riesce a togliere lo scudo alla squadra nemica. Una volta abbattuto lo scudo, inizia una piccola partita su corsa, su questa nave. La cosa bella è che è la perfetta fusione fra una modalità corsa e una modalità conquista. Una pecca c'è, e cioè, molto molto spesso, per far vincere la squadra, bisognerà, ad esempio, se la propria Porta Aerei è senza scudi e tutta la propria squadra sta cercando di difendere le M-Com sulla nave, quindi di proteggere la nave per non far perdere la propria squadra, ci sarà sempre quel giocatore che dovrà restare fuori praticamente da solo a conquistare le bandiere. Perché deve conquistare le bandiere? Perché deve fare in modo, per far ritornare, diciamo, su un piano equilibrato alla partita, deve fare in modo da distruggere anche lo scudo nemico, perché anche se quelli stanno giocando a corsa sulla nostra Porta Aerei, noi possiamo comunque ancora provare a distruggere la Porta Aerei nemica. E molto spesso lì sta anche il segreto della vittoria, però diciamo che se nessuno della propria squadra sta facendo questa cosa, tocca farlo a noi e risulta abbastanza noioso, semplicemente perché tutta la gente sta nella Porta Aerei. Però devo dire che nel tutto e per tutto questa modalità è davvero fantastica. La cosa più bella di questo DLC è questa modalità di gioco. Peccato, davvero peccatissimo, che si possa giocare solo su queste quattro mappe, però d'altra parte lo capisco perché su altre mappe questo meccanismo non funzionerebbe tanto bene perché mancano magari le due Porta Aerei o comunque la mappa non è sviluppata e onestamente in questa modalità di gioco quelle quattro mappe sono perfette, nel senso sono davvero studiate per funzionare in un certo modo. Quindi, se abbiamo intenzione di giocare a una modalità nuova e davvero davvero interessante, allora Naval Strike vale dei soldi. Non dico 15 euro perché soltanto per un tipo di partita che magari facciamo una ogni tre partite perché magari diventa una delle nostre modalità preferite, però essendo solo quattro mappe non ci giochiamo così spesso, giochiamo molto più spesso ad esempio a Conquista perché possiamo giocarlo su tutte le mappe. Quindi, soltanto per questo elemento, il nuovo DLC secondo me non può valere 15 euro, non può perché è troppo poco, non c'è sostanza e un giocatore quando deve spendere 15 euro per un'espansione vuole qualcosa in cambio e se la cosa che riceviamo in cambio sono due dita in un occhio e poi una carezza, la carezza è basta, non vale quei soldi. Diciamo così, cogliete la metafora e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!